Percorsi di circolazione installati, banchi individuali sanificati e nastro adesivo sui pavimenti per segnare le distanze. A Saint-Oban de Cormier, vicino a Rennes, nel nord della Francia, la scuola e il municipio stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per garantire un ritorno sui banchi di scuola il più sicuro possibile. Ci sarà molto tempo dedicato al lavaggio delle mani, alle precauzioni sanitarie, alla pulizia e alla disinfezione, spiega un insegnante. Quindi alla fine perderemo sicuramente molto tempo, ma faremo del nostro meglio. Penso che, come tutti gli altri, sono un po' spaventata o soprattutto ho paura di portare il virus a casa, alla mia famiglia. Ecco di cosa ho paura, ma bisogna continuare a vivere, non farsi troppe domande e dare il massimo. Su 312 alunni presenti all'Istituto Bretto nello scorso 13 marzo, prima che tutto si fermasse, dovrebbe tornare in classe circa il 70% questa settimana.